Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Ricorre oggi 10 ottobre la giornata mondiale contro la pena di morte, un tema purtroppo ancora molto attuale. Ad oggi più dei due terzi dei paesi al mondo ha abolito per legge nella pratica la pena capitale, ma resta ancora alto il numero complessivo delle esecuzioni. Nel 2021, infatti, Amnesty International ha registrato 579 esecuzioni in 18 stati diversi, con un aumento del 20% rispetto al 2020. I paesi al mondo dove avvengono il maggior numero di esecuzioni sono Cina, Iran, Egitto, Arabia Saudita e Siria. In Europa la pena capitale vige ancora in Bielorussia. Sono ancora 55 i paesi al mondo in cui vige ancora in toto. Francesco Sanzolino, responsabile del gruppo locale di Taranto di Amnesty International, intervenendo in esclusiva ai microfoni di Cosmopolis Media, ha dichiarato che numerosi studi hanno dimostrato che la pena di morte, oltre a violare il diritto alla vita, non costituisce un deterrente, dal momento che negli stati in cui è in vigore il numero dei reati è maggiore rispetto a quelli commessi negli stati che l'hanno abolita. Amnesty International, ha sottolineato Sanzolino, porta avanti da 40 anni la campagna contro la pena di morte, tramite attività di sensibilizzazione, appelli urgenti e attraverso l'educazione ai diritti umani nelle scuole. Ognuno di noi può fare la sua parte, ha concluso i responsabili del gruppo di Taranto di Amnesty. In questo particolare momento storico è importante che l'umanità torni a riscoprirsi umana. Sono 34.444 nuovi casi da Covid-19 registrati in Italia, secondo il bollettino del 9 ottobre, a fronte di 170.238 tamponi effettuati, tasso di positività al 20,2%, 41 invece le vittime su tutto il territorio nazionale. In Puglia 1.122 le positività emerse, di cui 138 nel Tarantino, insieme a un decesso. Attualmente in regione sono 12.678 le persone positive, di queste 136 sono ricoverate in area non critica e 5 in terapia intensiva. Nella cornice unica e suggestiva del porto di Taranto si sono svolti dal 7 al 9 ottobre i Taranto Port Days 2022, un evento organizzato dall'autorità di sistema portuale del Marionio in collaborazione con Fondazione Taranto 25 e numerosi altri partner pubblici e privati. Una manifestazione che ha voluto raccogliere sport, musica e cultura intorno alla valorizzazione della risorsa mare. Nella giornata finale di domenica 9 ottobre abbiamo chiesto a Fondazione Taranto 25 e alla Ionian Dolphin Conservation di tracciare un bilancio dell'evento appena concluso. Le immagini di questo evento parlino chiare, nel senso che abbiamo portato insieme alla grande organizzazione dell'autorità portuale, abbiamo portato tanti ragazzi, le società sportive, comunque un evento penso che ha avuto un ottimo riscontro con la nostra città e l'intento appunto era quello proprio di avvicinare la città e i ragazzi, i giovani che non hanno un rapporto diretto col porto, con l'autorità portuale e penso che questo sia stato effettivamente un risultato raggiunto. Un evento in forte crescita, il terzo anno consecutivo, diamo il nostro contributo perché riteniamo che la vista del porto via mare sia fondamentale e quindi di conseguenza abbiamo messo a disposizione dell'organizzazione i nostri mezzi per avere questa visione da parte del pubblico di questa porzione di Taranto straordinaria e molto molto importante, numeri crescenti nel corso di questo triennio e quindi sicuramente credo un evento importante per la nostra città che ambisce a crescere anche nei prossimi anni. Si è aperta ieri a Taranto l'edizione 2022 di Green Blue Days, il forum sulla sostenibilità che mira a trasformare il meridione in un grande laboratorio di idee per la generazione Z, immattinata la veleggiata nella rada di Margrande e la meditazione nel vento sulla banchina del Castello Aragonese, mentre in serata la pericena Tarantucci e Vino è andato di scena presso la Lega Navale. Oggi c'è stata questa manifestazione di apertura con la veleggiata nel golfo e con dimostrazioni di sport tai chi e altri tipi di sport che si sono svolti all'interno del Castello Aragonese. Siamo ben contenti di essere qui perché Taranto per noi rappresenta la città delle opportunità. dopo la nostra prima edizione di Napoli e dopo aver comunque lasciato il testimone al comune di Taranto siamo qui presenti per la seconda edizione dei Green Blue Days. Green Blue Days è un forum sulla sostenibilità sistemica itinerante per il sud che guarda i giovani e quindi alla generazione Z come laboratorio possibile di opportunità e di sfide possibili per affrontare il futuro. Lo scorso anno ebbi l'onore di andare a raccogliere il testimone ai Green Blue Days di Napoli in rappresentanza del sindaco di Taranto e dell'amministrazione Melucci. Quest'anno siamo qui ad avviare queste tre giorni di dibattiti sull'economia circolare, sulla sostenibilità, sulla generazione Z e sui progetti che i giovani portano in questi temi. Per cui il claim della manifestazione sembra essere calzato a pennello sulla città di Taranto perché parla di narrazioni nuove, di cambiare il mondo iniziando dallo scambio delle parole. Quindi è proprio quello che abbiamo iniziato a fare qualche anno fa con la città di Taranto e che adesso sta diventando realtà. Taranto è diventata una città attrattiva e attrattiva di investimenti e di questo tipo di eventi. In questi giorni circa 250 relatori si scambieranno le opinioni proprio su questi temi. A Latina arriva la quinta sconfitta in campionato per il Taranto di Mr. Capuano con i rosso-blu che cedono ai padroni di casa con il punteggio di 1-0. I nerazzurri restano in 10 per l'espulsione al 47esimo di Carletti ma due minuti più tardi trovano comunque la rete grazie a una precisa zuccata di San Nipoli. Gli ionici provano il forcing fino al novantesimo ma senza troppa convinzione. Adesso occorre ricaricare le batterie prima del match dello Iacovone in programma sabato prossimo contro la Juve Stabia. Fa festa il Martina Franca che spugna il Puttilli di Barletta conquistando una vittoria esterna che consente a Mr. Pizzulli di tirare una vera e propria boccata d'ossigeno. Due gol, uno per tempo, targati ancora e pinto e clean sheet per Suma, una prova dunque da incorniciare per l'undici della Valle d'Itria. Domenica al Tursi arriva all'Altamura, l'obiettivo è centrare la prima vittoria a casalinga del campionato. Trasferta amara per la gioiella Prisma Taranto che ieri in casa della Top Volley Cisterna ha perso con il rotondo, risultato di 3-0. Primi due set in cui gli aziali hanno dominato agevolmente, nel terzo parziale c'è stato più equilibrio ma i rosso-blu di coach dipinto non sono riusciti comunque ad allungare la contesa. Tra i padroni di casa da segnalare è la prova di Dirlic, autore di 24 punti ed MVP della serata. Per la Prisma il riscatto passa adesso dal match casalingo di domenica prossima contro il vero Volley Monza. A Ruvo di Puglia arriva la prima sconfitta in campionato per il Cussionico. I rosso-blu sono caduti sul parquet della Tecno Switch con il punteggio di 66-52, complice a una prima metà di gara in cui i padroni di casa, trascinati dal grande ex di Omede, ottengono un gap importante. I ragazzi di Cocciolive provano a ricucire lo strappo dopo l'intervallo lungo ma senza riuscirci. Domenica in casa arriva Sant'Antimo, sarà fondamentale rialzare subito la testa. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.